Tra i vari parametri ricordo che esiste il concetto di integrità ambientale, integrità paesaggistica, integrità del contesto. Occorre che gli strumenti urbanistici locali siano adeguati a questa visione, quindi è un'idea che vale per il presente ma che è proiettata sul futuro. Quindi tutti questi argomenti devono essere agganciati, sono fili che devono trovare una maglia coerente e soprattutto una visione delle cose che sia il vero valore della città. Io credo che Bassano ce l'abbia questa caratteristica. Fabrizio Magani, sovrintendente alle Belle Arti di Verona, Vicenza e Rovigo, in giornata a Bassano per una visita speciale, appoggia il progetto di Rete Veneta di far rientrare il centro storico della città tra i siti patrimonio dell'umanità. Magani plaudia l'idea. Io trovo che sia il segnale più bello e che giustifica in qualche modo, se mi permette, anche il nostro lavoro e cioè che su questi temi che sono culturali, ambientali, sociali, legati al mondo del lavoro per le ricadute che il patrimonio può offrire, io credo che rappresentino proprio la vitalità di questi temi, di questi argomenti. Quindi è un incoraggiamento proprio a starci dentro. La strada è lunga e complicata, ma è una via percorribile e noi la seguiremo. Si parte da un presupposto, il centro storico non va toccato. La centrale elettrica in quel di via Pusterla quindi non sa da fare perché farebbe cadere i presupposti di una candidatura prestigiosa, oltre che, stando agli studi di molti esperti, metterebbe in pericolo la stabilità della zona. La decisione della sovrintendenza di vincolare l'intera area del ponte e quella del castello deriva proprio dalla volontà di tutelare la zona. Oggi credo c'era la necessità di comprendere come questo metodo che andava a toccare il singolo monumento, magari disseminato in varie zone del centro storico, potesse trovare un'armonizzazione, una lettura integrata che mi pare, ne parleremo spero oggi, possa essere anche il viatico per questo ambizioso progetto di cui mi si parla e cioè di avere una nuova forma di attenzione da parte di UNESCO.